Siamo tornati! Venni! Oh! End unit! Che sta mangiando? Oh mio! Gregory! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Gameplay! Gameplay! È un nuovo modello! Wow! Guardate le scene! Oh Dio! Fenni! Ma? Yo! Ci ne scordiamo! Possiamo giocare con Glamlock Freddy! È un ufficio! You should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will... Music Man! Music Man! Yo! Guarda! Oh mio Dio! Rox and Wolf! Oh! Gli aiutobot! Gli aiutobot! Guardate! Yo! Spazzatura! Spazzatura! Non so che dire! Montgomery! È bellissimo! Sono scioccato! Oh Dio! Una torretta! Freddy Fazbear! Guarda che scena! Oh mio Dio! Yo! Gli aiutobot! Gli aiutobot! Da ti rilascio! Da ti rilascio! Da ti rilascio! Oh mio Dio! Dicembre! Dicembre!